c'è gente sotto, non è che c'è qualche armatura dell'arma balcone c'è aire 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 Stai con la presenza! Never mind, never mind! Lo scusalo! Move in! No sciutin'! All safe in the zone! Nice work! Destination here! Relax! To the aid station! Sì, qua qua qua, qua ce ne sono tante, dove sto io. Non venire sotto sotto che puoi fare l'ultimo, guarda me. Non vedo, non vedo. Non vedo, non vedo. Non vedo, non vedo. È Diedro. Non vedo. Non vedo, 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 non vedo. Io penso che modra un po' escopo, quindi ci rendiamo stasera. Ciao ciao. Grazie a tutti.